Oggi a inaugurare la 48esima rassegna dell'olio extra virgine d'oliva. Grazie all'assessore all'attività produttiva, Priscina Bessana. Ai nostri prodotti, a quelli che caratterizzano la Toscana, parte in qualche modo da questa festa a Reggello. Eccoci! Grazie a tutti! L'olio come prodotto tutelato dai GP, tutelato dalla qualità che esprime in Toscana, che rappresenta un po' il simbolo di una ripresa. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!